Per la maggior parte di noi dopo le vacanze urge una cura d'urto per la bellezza della pelle del corpo, del viso e dei capelli. Ecco alcuni consigli naturali con delle ricette Express fai da te super efficaci. Per la pelle del corpo fai un peeling con sale dell'Himalaya fino da stendere sul corpo asciutto, poi una doccia con un sapone naturale liquido di marsiglia o all'olio d'oliva e poi una bella idratazione finale con dell'olio di semi di albicocca spalmato e massaggiato generosamente su tutto il corpo e sentirai che pelle di velluto. Per il viso fai una maschera super idratante con un gel di aloe e subito sopra il gel applica uno strato generoso di crema molto nutriente. Tieni tutto in posa per 15 minuti, poi asporta tutto con una velina di carta e riapplica subito uno strato abbondante di crema nutriente. Lascia che si assorba e vedrai che splendore. Per i capelli prima dovrai curare il cuoio capelluto con degli oli essenziali per calmarlo e rivitalizzarlo, quindi fai un bel massaggio con un po' di olio di jojoba con qualche goccia di olio essenziale di lavanda e di rosmarino. Poi fai un impacco nutriente con due cucchiai di maschera idratante per capelli a cui avrai aggiunto un cucchiaio di olio di oliva. Lascia tutto in posa per 15 minuti e poi fai un bel lavaggio con uno shampoo neutro naturale. I capelli saranno lucidi e morbidi come prima dell'estate. L'importante è che queste cure d'urto vengano ripetute per tre giorni di seguito, allora vedrai che ti daranno risultati visibili e duraturi che alla fine è quello che cerchiamo un po' tutti, naturalmente.